Allora, ben ritrovati, vogliamo parlarvi di un fenomeno che riguarda, pensate, 4,6 milioni di italiani. Un fenomeno che potrebbe essere scambiato per una semplice bravata all'italiana, ma che di fatto rappresenta un reato, un reato molto grave. Stiamo parlando ovviamente di streaming illegale, stiamo parlando di diritti tv, stiamo parlando di un tema che ovviamente ci appartiene e ci riguarda da vicino. 21 milioni di atti di pirateria, pirati 3 su 4 appassionati di partite di calcio, ma anche di serie tv, di film, insomma tutto ciò che arriva illecitamente attraverso uno streaming sui nostri dispositivi. Allora, di questo vogliamo parlare per porre l'accento su questa parola, reato. Lo vogliamo fare con l'aiuto di Gianluca Berruti, tenente colonnello della Guardia di Finanza, comandante dei gruppi operativi presso il nucleo speciale tutela della privacy e frodi tecnologiche. Benvenuto, con lei vedremo anche dei dati importanti che evidenziano questo fenomeno. Allora, colonnello, vorrei partire da lei, vorrei partire da questo, non si tratta di una bravata? Assolutamente no, non si tratta di una bravata, si tratta di un fenomeno molto diffuso, un fenomeno molto radicato, che apporta dei danni molto rilevanti all'economia, ma soprattutto purtroppo è un fenomeno che è poco percepito per la sua gravità, perché già da un punto di vista normativo le persone sia che utilizzano dispositivi, meccanismi, atti a riprodurre contenuti o, peggio ancora, che sono loro stessi i primi a riprodurli, a trasmetterli e a condividerli con altri utenti, sono perseguibili con delle pene molto importanti. Parliamo di responsabilità che arrivano fino a tre anni di reclusione e soprattutto parliamo chiaramente di possibili aggravanti, qualora nel caso di organizzazioni criminali, che sono diciamo quasi sempre dietro a questo tipo di fenomeno, ci si renda responsabili, seppur inconsciamente, in un modo o nell'altro, o di acquistare questi contenuti oppure, peggio ancora, di condividerli. E dunque non si tratta di robbi nude del web che rubano ai ricchi per dare ai poveri, non è questa la favola che vi stiamo raccontando. Colonnello, vogliamo cercare di capire anche i proventi di questa attività criminale, così la dobbiamo definire. Dove vanno a finire? Assolutamente, come è stato detto all'interno dei contributi, non si tratta di un fenomeno, come molte persone percepiscono, che va, come dire, ad ingrossare magari le finanze di pochi. Quasi sempre ci sono dietro delle organizzazioni criminali. Il fatto di riuscire a seguire i flussi finanziari ci porta, come dire, quasi sempre a dover verificare, a dover constatare l'esistenza di un'organizzazione radicata, di un'organizzazione che immediatamente reinveste questi proventi oppure li utilizza per finalità illecite. Quindi, sostanzialmente, acquistando questi contributi, si va in qualche modo a sostenere, a foraggiare quella che è la criminità organizzata. Ecco, allora, colonnello, ho sentito di fatto, diceva il sottosegretario Crimi, che la vera minaccia era presentata proprio dall'IPTV, l'Internet Protocol Television. Crimi ha parlato proprio di furto. Cioè, si tratta di furto quando ha fatto riferimento ai professionisti dell'illecito, no? A quelli che vanno nelle sale cinematografiche con delle attrezzature avanzate. Cioè, non è più il telefonino, quindi... Assolutamente, anche noi abbiamo dei riscontri in materia. Io mi volevo un attimo ricollegare subito con quello che diceva il dottor Bellinazzo, cioè a noi interessa particolarmente il fenomeno economico. Non ci limitiamo, pertanto, solo a debellare l'organizzazione in senso tecnico, cercando, ad esempio, o di oscurare i siti, oppure eventualmente di intervenire in forza proprio per spegnere questo tipo di servizio. Il nostro core business sta proprio nel cercare di ricostruire tutto il volume di affari, perché con la collaborazione dei cittadini possiamo porre in essere tante misure, penso ad esempio al sequestro, alla confisca, anche dal punto di vista economico si può arrivare alla confisca per equivalente, senza contare tutti i risvolti per l'economia sana, ad esempio i gravi danni che ci sono sotto un profilo dell'evasione fiscale, perché comunque sotto un profilo teorico questo tipo di proventi chiaramente sono totalmente illegali, totalmente nero e sono, come abbiamo detto, non frutto dell'opera di un singolo giovane o di qualcuno che magari lo fa a titolo così personale, ma spesso e volentieri di vere e proprie organizzazioni malavitose. Per quanto riguarda il fenomeno dei film in generale, secondo la nostra esperienza non si può, come dire, limitare il fenomeno ad un prodotto, perché le piattaforme ormai consentono di condividere qualsiasi contenuto. È chiaro che i prodotti maggiormente appetibili sono quelli che hanno più mercato. Da questo punto di vista, secondo noi, tutto nasce sempre da una fonte lecita, quindi o da un abbonamento alla televisione o da un contributo che magari viene acquisito legalmente e poi, mediante dei dispositivi tecnologici come dei converter nel caso dei flussi, viene condivisa a vere e proprie centrali che smistano il segnale. Allora, il nostro Marco, facciamo in chiusura, colonnello, solo qualche secondo se vuole chiudere. Solo per dire che concordo con quanto detto, non è la tecnologia il problema, è l'uso che se ne fa. Quindi abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini. Siamo nelle scuole con un progetto di educazione alla legalità, parliamo ai ragazzi, ma piuttosto che offrire di questi contenuti, abbiamo bisogno che le persone ce lo segnalino e ci consentano di intervenire. Grazie per questo appello. La ringrazio, colonnello Gianluca Berruti, per essere stato con noi. Grazie anche a Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Grazie. Grazie a voi. Grazie Marco. Ciao, a presto. Allora, qualche istante di pausa, il Tg delle 17, Sky Tg 24 pomeriggio, invece come di consueto, ritorna domani puntuale alle 15. Grazie per averci seguito e a domani. Grazie. 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 Grazie.